Piave TV, la nuova comunicazione televisiva di Sandona di Piave, ha inaugurato la redazione. Il nuovo studio in via Concordia 11 a Sandona di Piave sarà lo scenario dei nuovi programmi offerti dalla produzione, che si prefigge un rinnovato profilo editoriale, con il vanto di un magazine con scadenza quotidiana, al fine di garantire un costante aggiornamento sulle novità offerte dalla zona. Un progetto importante che fa leva sulla considerevole esperienza di un'azienda da sempre coinvolta nel campo della comunicazione e che sfrutta le migliori tecnologie audiovisive per offrire ai Sandonatesi una finestra sulla propria piazza e sui territori circostanti, con contributi audiovisivi e interviste alle autorità locali per porre l'attenzione su una realtà circoscritta ma ricca di opportunità e protagonista di rilevanti scenari politici. Insieme all'informazione giornaliera, il progetto include una serie di approfondimenti settimanali per avvicinare il pubblico a questioni di comune interesse, con l'ausilio di ospiti di eccezione ed esperti in un clima da vero e proprio talk show. Oltre al già noto cronac veneti, si prevede la messa in onda di nuovi appuntamenti col pubblico, quali 20 minuti veneti, in faccia a faccia con ospiti in studio per trattare ogni settimana argomenti di interesse collettivo e Tango, il talk show per approfondire tematiche di attualità con esperti in studio. Forte del successo già conseguito con le precedenti trasmissioni, questa nuova proposta si prospetta come una formula vincente, in quanto poggia sull'affetto dei telespettatori che auspicano di ritrovare un poco del loro quotidiano all'interno della grande scatola televisiva. Chiave TV propone dunque un innovativo spunto informativo a grandezza d'uomo, che si interessa delle realtà locali della Venezia orientale, portando i cittadini a essere loro per primi partecipi degli eventi, aggiornandoli sulle svolte politiche del loro territorio, informandoli sulle novità, per renderli attivi nella realtà civile, coniugando la passione per le tradizioni con le novità di tecnologie quali la televisione e la rete, al fine di raggiungere un nuovo livello comunicativo che coinvolga anche la nuova generazione e la muova attivamente in un territorio che gli appartiene e che ha il diritto di conoscere. A breve la messa in onda di nuove trasmissioni televisive che amplieranno il ventaglio di proposte e nuovi spunti di interesse. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS